E in qualche modo, essendo questo un luogo di riflessione, di lettura su base scientifica, faccio una battuta, anche il nostro lavoro è stato guidato dalla scientificità della storia, nel senso che la nascita di questo progetto circa un anno fa è nata proprio da un modo di raccontare la storia dell'architettura. Attraverso una scoperta, una scoperta inaspettata, di un portfoglio di disegni, 78 disegni, che sono stati donati all'archivio di architettura della biblioteca della ex facoltà di architettura, oggi scuola politecnica, con sede in Sarzano, e che raccontano il primo progetto che Renzo Piano ha presentato pubblicamente nella seduta del Consiglio Comunale del 22 ottobre del 1987, nella giunta del sindaco dell'epoca Cesare Campart, e che ci ha mostrato per la prima volta come il progetto del recupero del porto antico non fosse quello che noi vediamo oggi e quindi il nostro stupore è stato grande nel capire che i progetti nascono in un modo, si evolvono, cambiano e poi forse si migliorano, forse si perdono delle occasioni e se ne guadagnano altre. E quindi di lì è nata una necessità di ricordare questo trentennio e anche la lungimiranza che la politica tutta, maggioranza opposizione, regione, comune, provincia, consorzio autonomo del porto, aveva costruito per restituire il mare ai genovesi. Restituire il mare ai genovesi significava intanto rompere delle barriere che separavano la piazza a caricamento dall'area doganale e quindi consentire anche banalmente a livello di suolo il passaggio da una parte all'altra della città che di fatto era la stessa città, ma che invece era percepita come due città diverse, la città del porto e la città dove abitano le persone. Questo è stato il nostro filo conduttore e ci ha consentito di strutturare la ricerca non solo attraverso la valorizzazione di alcuni archivi molto nascosti della nostra città, uno sito anche qui, l'archivio storico del Comune di Genova, dove appunto abbiamo rintracciato la relazione che Renzo Piano fece a quel Consiglio Comunale, dove parlava in modo aperto alla città di una necessità di non realizzare una fira delle vanità, perché l'occasione dell'esposizione specializzata a Cristoforo Colombo, la nave e il mare, consentiva alla città di recuperare una parte consistente, sei ettari, del suo territorio, che una volta terminata la manifestazione sarebbe stata di fruizione pubblica, un'area pubblica con la fruizione pubblica, una piazza che la città non ha mai avuto. E quindi, insieme ad Antonio, abbiamo iniziato a studiare, studiare i documenti, iniziare a prendere contatto con alcuni dei protagonisti dell'epoca. Claudio Burlando, che all'epoca era consigliere di minoranza, in opposizione al sindaco Campart, fautore dell'acquario. Fabio Capocaccia, che era il segretario del Consorzio Autonomo del Porto, e quindi capire anche l'importanza di un'altra figura fondamentale per la città, Roberto D'Alessandro, che con i suoi magnifici libri blu, aveva già orientato le scelte future del porto. Aveva capito che il porto dentro la città non poteva più rimanere, e che si doveva espandere verso Pra, prima, scusate, verso Voltri, poi verso Pra. Questo ha modo di procedere consultando varie fonti, e quindi partendo sempre dall'analisi dei documenti, e usando le interviste orali come degli strumenti per verificare le nostre idee, le nostre ipotesi. Per cui siamo andati a trovare uno degli architetti che era stato incaricato dal Renzo Piano Building Workshop di sovrintendere alle varie fasi progettuali. Renzo Venanzio Truffelli, che ha lavorato con Renzo Piano dal 1983 al 1999, e quindi farci raccontare di come all'inizio la città era stata suddivisa in due poli, il polo antico e il polo moderno, il polo antico che era coincidente con la parte storica della città, e il polo moderno era la foce, per la presenza della Fiera del Mare, per la presenza dell'architettura di Daniele Piazza Rossetti, per la presenza anche, se vogliamo, di Piazza della Vittoria, una piazza non piazza, mai usata come tale. E quindi tutta una serie di confronti che abbiamo avuto hanno consentito di elaborare una tesi. La nostra tesi era appunto quella di capire che lo sforzo che è stato fatto dalla politica locale e dalla politica nazionale, perché Genova è stata sempre molto ben accolta dalla politica nazionale, è stata sempre molto finanziata e anche recentemente abbiamo visto con le tragedie che si sono succedute a partire dal crollo del viadotto sul Polcever che lo Stato è sempre stato generoso nei nostri confronti. E quindi in quel contesto la città ha ricevuto molte risorse economiche che non sono state investite solamente nel recupero del Porto Vecchio, ma hanno consentito il recupero di questo palazzo che ha esattamente gli stessi anni del Porto Antico, del progetto di Renzo Piano. È stato recuperato il Carlo Felice, quindi la città ha riconquistato altri spazi pubblici. Ma il tema e il dibattito che era in corso negli anni Ottanta da una parte era legato alla crisi dei porti e i nostri interlocutori ci hanno ricordato che il Natale del 1983, se non sbaglio, e il Capodanno del 1983 è stato un anno critico. Non c'era nessuna nave in porto, non c'era nessuna sirena. Questo aveva, diciamo, testimoniato la crisi del Porto, che era una crisi non solo del Porto di Genova, era una crisi globale. E quindi molte città si ritrovavano ampie porzioni del loro territorio occupate da funzioni che quel territorio stesso non era più in grado di sopportare. E quindi si liberavano queste aree. E cosa bisognava fare per poterle restituire alla fruizione pubblica? Trovare degli escamotage. Qui l'escamotage è stato un'esposizione specializzata dedicata a Cristoforo Colombo. Perché? Perché il Bureau Internazionale des Expositions aveva già individuato in Siviglia la città che doveva ospitare l'esposizione internazionale su un'area molto più grande dal punto di vista della superficie. Ma la differenza tra Genova e Siviglia la possiamo constatare alla fine, quando Genova ha recuperato gli edifici che già esistevano con la costruzione solo di due, diciamo, edifici nuovi. La piazza delle feste con il simbolo dell'Expo, il bigo e l'acquario. E tutto il nostro lavoro è stato quello di ricostruire questa storia per cercare di capire che Genova è una città che ha sempre avuto la capacità di lavorare su se stessa e di immaginare il proprio futuro. una capacità che è quasi, come dire, sedimentata nella nostra storia, nella nostra cultura. Probabilmente se non ci fosse stato un sindaco come Fulvio Cerofolini che per primo ha dato l'incarico a Renzo Piano per studiare la situazione e quindi anche lì la lungimiranza amministrativa. Non agire solamente per il proprio consenso immediato, ma pensando al futuro e alle generazioni che vengono dopo. E poi la figura di Renzo Piano, che nel 77 inaugura il centre dedicato al presidente Georges Pompidou a Parigi e negli anni Ottanta lavora sul recupero della fabbrica del lingotto a Torino per la Fiat. Quindi Genova rappresenta un po' una svolta perché in tutta la produzione, anche recente, dello studio piano non si è mai verificato un intervento che ha avuto una potenza tale come quello che ha avuto a Genova. Non tanto per la dimensione, ma la ripercussione che ha avuto nella città. E quindi questo ha consentito a Genova di trasformarsi in parte da città industriale a città, io la definisco, semi-turistica. Non siamo ancora una città turistica, non abbiamo ancora le caratteristiche per essere una città turistica perché i nostri competitor sono molto più forti, perché hanno più monumenti, perché hanno una storia diversa. E quindi l'opera di Renzo Piano, oggi a trent'anni, la possiamo rileggere e possiamo individuare alcune situazioni che sono accadute e anche delle situazioni che abbiamo evitato, per fortuna. Una di queste, che giustamente ci è stata fatta notare dall'architettor Truffelli, a metà dell'intervista, lui ha affermato «Ah, ci siamo dimenticati del cono di Portman». In effetti, no, io e Antonio non avevamo molta considerazione per questo progetto, però la città ha rischiato di trovarsi a un certo punto, il bigo e la piazza delle feste, e ha attaccato una grande zattera triangolare con un cono alto più di 300 metri. E quindi, se la politica non avesse avuto la forza, grazie anche al sostegno del Bureau International des Expositions, che aveva comunque già delimitato quelle che erano le aree destinate all'esposizione specializzata, probabilmente avremmo avuto un grosso problema. E ovviamente, come voi sapete, nel momento in cui un imprenditore privato fa una proposta alla città e la città la rifiuta, non è che poi la città deve continuamente respingerlo. Quindi, quello che noi abbiamo imparato, leggendo i documenti e parlando con i protagonisti di questa storia, è che il progetto è cambiato andando un po' incontro a quelle scelte che forse erano più giuste fare, ma che non si sono fatte perché mancava il tempo, l'economia non lo consentivano. Però abbiamo anche capito che, proprio dall'analisi di questi documenti, che forse questa versione che abbiamo scovato negli archivi era una versione che ci dava l'opportunità di vivere lo spazio tra la città e il porto in una maniera diversa. E quindi ci siamo chiesti, o meglio, abbiamo affermato, peccato, perché se fosse stato realizzato in questo modo, noi probabilmente, anziché percorrere l'arco portuale per, diciamo, da Piazza Caricamentola, il bigo, per raggiungere i magazzini del cotone, avremmo attraversato lo specchio acchio direttamente su un ponte mobile. Quindi questa scoperta in un qualche modo è stata un po' sconvolgente, perché noi abbiamo sempre avuto un'immagine molto fissa di che cos'era il porto antico, il bigo, le piazze delle feste, l'acquario, i magazzini del cotone, il centro congressi. E il centro congressi è stato un tema molto dibattuto in quegli anni, perché Genova era una città che aveva bisogno del centro congressi, ma il centro congressi non lo aveva. E quindi, come ci è stato spiegato e come abbiamo verificato, la capacità di Piano e dei suoi collaboratori è stata quella di costruire, recuperando questi spazi molto diversi tra la Palazzina del Millo, l'ex Deposito Franco, le ville seicentesche e il magazzino del cotone, ad usi sempre diversi. Nel senso che la buona architettura è capace di sopportare funzioni diverse nel tempo. E questo è un grande pregio del modo in cui il Renzo Piano Building Workshop ha affrontato il tema progettuale, perché sia la Palazzina del Millo, che era la palazzina di rappresentanza, come anche le palazzine dell'ex Deposito Franco, dei padiglioni nazionali, alla fine hanno potuto cambiare funzione. C'è una libreria, c'è stato l'innesto di Italy e questo è stato possibile perché? Perché l'architettura non era così connotata da obbligare a inserirci una determinata funzione, ma nel tempo le funzioni potevano essere intercambiabili e questo l'architettura l'ha sopportato benissimo. L'altro aspetto interessante è che le risorse, tanto per darvi due numeri, le risorse che sono state date a Genova ammontavano... forse da una parte dimostra che la città quando rema tutta nella stessa direzione riesce a portare a casa dei grandi risultati e questo è accaduto perché? Perché c'è stata una disponibilità innanzitutto all'ascolto e quindi nel momento più difficile in cui ad esempio su Ponte Spinola era previsto un albergo e non era non era previsto l'acquario ma nel momento in cui si è pensato di fare l'acquario non è stato un pensiero casuale è stato il frutto di un ragionamento di uno studio che l'opposizione il Partito Comunista aveva fatto su le trasformazioni urbane delle città di mare e c'è stato raccontato da appunto dall'archito Truffelli come un escamotage una laurea ad honorem data al senatore Taviani che era un grande studioso di Colombo e anche in un qualche modo grande fautore dell'esposizione internazionale specializzata ha avuto dall'Ohio University quella era l'occasione per il comune per partecipare con dei suoi rappresentanti e sono stati inviati il vice sindaco Fabio Morchio e il consigliere di opposizione Claudio Burlando il viaggio poi è stato esteso a Baltimora proprio perché Baltimora era una di quelle città che era rinata attraverso il recupero del suo frontemare in particolare con la progettazione di un acquario progettato da Peter Chermayev e quindi quando Burlando e Morchio sono rientrati hanno proposto ed è stata accolta all'unanimità in consiglio comunale che Pontespino la fosse destinata a un acquario e a vederlo dopo 30 anni noi possiamo anche confermare che l'acquario è stata una scelta strategica molto efficace perché è diventato presto uno dei poli attracciuti uno vuol dire chat molto più di altri luoghi della città i turisti vanno all'acquario e magari non vanno in altre non vanno nel centro storico forse o forse sì però è diventato nel tempo un hub culturale molto forte detto questo la nostra ricerca che è stata una ricerca come dicevo prima che è durata un anno ha avuto due esiti da una parte la mostra che abbiamo ideato e pensato insieme a Giglio Bagnara e ci stuzzicava a me e Antonio questa idea di di fare una mostra d'architettura in uno spazio non convenzionale riduce Antonio dalla dalla mostra l'anno prima sul sul nonno Marco ma era anche un modo per sottolineare nei confronti della città un'assenza di spazi un'assenza di spazi espositivi per la cultura contemporanea e quindi la necessità di sperimentare una nuova forma l'altro modo che abbiamo utilizzato per raccontare questa storia è stato il libro il libro è un po' la sintesi di tutta la ricerca che comprende ovviamente molti materiali in più rispetto a quello che è la mostra perché ci sono le interviste appunto a Burlando a Capocaccia Andrea Rossi che era l'ingegnere direttore tecnico dell'ente Colombo 92 e poi anche dell'Acquario una mia vecchia intervista realizzata nel 2002 al sindaco Cerofolini insomma tutta una serie di apparati compresa anche questa famosa relazione che abbiamo recuperato dall'archivio storico del Comune di Genova di Renzo Piano proprio per far capire come era il contesto e poi che cosa è accaduto tra l'altro una cosa che poi vi parlerà Antonio proprio il contesto in cui ha agito Renzo Piano è un contesto particolare perché non dobbiamo dimenticare che alla fine degli anni settanta il piano regolatore di Genova è in fase di approvazione e nel 1981 proprio la giunta Cerofolini aveva affidato a sei architetti il compito di lavorare sul recupero di alcune aree tra cui la Darsen affidata a Giancarlo De Carlo e il quartiere del Molo affidato a Renzo Piano quindi in un qualche modo già questa intenzione dell'amministrazione nel ripensare il quartiere di confine tra la città e il porto era già uno stimolo per poi riflessioni future io mi fermo e lascio la parola ad Antonio che invece affronta più gli aspetti anche del racconto del progetto perché mi sembra insomma di aver già parlato troppo grazie Emanuele ti ringrazio molto perché hai raccontato un po' la storia che è dietro alle immagini che vedrete la storia che le ha messe insieme diciamo non le ha prodotte erano materiali che esistevano ma che le ha le ha messe insieme e ci ha consentito di poi darle come dire metterle in pubblico con la mostra e il libro che sono sostanzialmente certo poi ci sono dei saggi che accompagnano questi materiali i saggi danno un'interpretazione quella di Emanuele la mia quella di Enrico Bona che ha firmato l'introduzione quella di Agostino Petrillo che ha affrontato le questioni legate alla comunicazione Andrea Vergano che ha che ha raccontato gli aspetti più urbanistici ma soprattutto al di là delle interpretazioni che ciascuno di noi ha dato sono i materiali a importare perché poi ognuno di ognuno di voi ognuno di chi ha modo di leggere il libro di visitare la mostra possa costruirsi una sua interpretazione di questa storia che poi è una storia personale anche per i genovesi perché è una storia con cui bene o male tutti abbiamo avuto che fare e abbiamo a che fare trattandosi di un pezzo di Genova tra i materiali avete visto scorrere alcune fotografie che nella nostra diciamo interpretazione aiutano a leggere il contesto sono fotografie che vengono da uno di quei tanti piccoli e anche meno piccoli archivi cittadini poco conosciuti l'archivio di un fotografo che si chiama Mario Parodi che ha documentato molto la stagione di mostri eventi culturali dagli anni 70 e 80 ha anche scattato un po' per caso alcune fotografie del porto prima della riqualificazione di cui parliamo noi e quindi servono un po' per capire il carattere di quel porto in declino come abbiamo detto un porto che stava spostando il suo baricentro verso Ponente ma nello stesso archivio di Mario Parodi abbiamo trovato anche queste immagini che sono sempre immagini del contesto questa è una del contesto in questo caso non il contesto urbano ma il contesto culturale questa è una mostra organizzata nel 81-82 dal assessore alla cultura Sartori della giunta Cerofolini a Palazzo Bianco che allora veniva usato per mostre di carattere contemporaneo di tema contemporaneo una cosa piccola ma collaterale ma non indifferente una mostra di opere di Renzo Piano che avete visto ritratto nella fotografia di prima qui vedete la mostra che serviva in qualche modo a costruire anche dal punto di vista culturale della comunicazione quell'incarico che poi sarebbe stato dato prima come raccontava Emanuele per il progetto del quartiere del Molo poi non realizzato e poi dopodiché per la realizzazione del quartiere espositivo e della riqualificazione del centro storico il contesto è anche un contesto progettuale un contesto di progetti affrontati in quegli anni poco prima dal Renzo Piano Building Workshop assimilabile a quello del Porto Antico il tema della tensostruttura per esempio affrontato dallo studio Piano insieme a Peter Rice ingegnere dello studio Ovearu forse il più importante studio di ingegneria al mondo ancora adesso che aveva iniziato a collaborare con lo studio Piano e Richard Rogers e Gianfranco Franchini al progetto per il Centre Pompidou e che da lì inizia una collaborazione continuata fino a che purtroppo non scomparirà prematuramente nella quale molto peso ha il tema delle tensostrutture a grande scala e a piccola scala piccola scala come per questa piccola padiglione smontabile per il recupero del centro storico di Otranto laboratorio di quartiere e a grande scala non so se c'è eccola poi torno indietro con per la fabbrica la riconversione della fabbrica Schlumberger a Parigi vicino a Parigi a Mont Rouge un progetto che non ha solo a che fare con quello del Porto Antico come dal punto di vista tecnologico la grande tensostruttura centrale ma anche dal punto di vista proprio della riconversione di strutture industriali o portuali in strutture culturali è interessante il fatto che Piano nella propria relazione al Comune spiegando il progetto del Porto Antico un po' quasi per consolidare la propria autorevolezza che era sì di un progettista che aveva fatto il Centre Pompidou ma come dire Nemo Porfeta in Patria doveva anche un po' ormai siamo abituati a un Renzo Piano che non deve chiedere mai tutto quello che dice va bene ma al tempo era ancora un progettista affermato ma che comunque doveva consolidare appunto una certa figura e Piano nella relazione dice io tenete presente che sto facendo riconversione di edifici industriali sia per gli Agnelli a Lingotto sia per gli Schlumberger a Parigi non sono nuovo a questa complessità di progetti altro progetto legato al tema dell'esposizione è il progetto dell'esposizione di Genova è il progetto per un'altra esposizione a Parigi nel 89 sarebbe stata un'esposizione universale per il duecentennale della Bastiglia poi non si tenne ma il progetto fu come dire approntato dallo studio Piano nell'82 ed era una grande sostanzialmente consistiva in una grande isola galleggiante fatta di zatteroni di cemento vuoti i quali poi dopo l'esposizione sarebbero dovuti smontare e allestire in altre città utilizzare per altri per altri usi è interessante perché Piano quindi iniziava questo è un suggerimento come dire una piccola una piccola diciamo tip che ci ha dato il che ci ha dato Shun Jishi da storico partner di Renzo Piano Building Workshop già all'inizio degli anni tanta pensava ad una esposizione universale che potesse poi scomparire diceva prima Emanuele Siviglia ancora adesso l'isola della Cartuja è in gran parte un vuoto urbano fatto di padiglioni di spazi che non si sa bene cosa fare l'expo di l'expo di come dire di Milano 2015 cioè ben dopo anche di quegli spazi beh sì vengono riconvertiti con questo polo tecnologico ma con grandi sforzi sostanzialmente un nuovo progetto che viene fatto questa esposizione si sarebbe sciolta sarebbe stata smontata completamente e anche in fondo anche l'expo di Genova si è sciolto si è sciolto non dal punto di vista tecnologico ma si è sciolto dal punto di vista urbanistico nel senso che si è come dire annullato nel diventare parte della città nel diventare un quartiere della città ultimo progetto che fa parte un po' di questa costellazione di progetti assimilabili a quello del Porto Antico è quello a cui già Emanuele ha fatto cenno il progetto per il diciamo una riqualificazione del quartiere del Molo fa parte di questa serie di progetti per i centri storici per il centro storico che vengono come dire delineati durante i primi anni 80 durante la giunta Cellofolini un progetto che non viene realizzato ma molto interessante per questa idea di collocare delle piccole infrastrutture una specie di città provvisoria collocata sulle coperture soprattutto degli edifici del del Molo quello che è interessante è che nella politica della giunta Cerofolini la e come ha già accennato Emanuele la riconversione del Porto Antico è anche un'azione che si inscrive in una logica di riqualificazione del centro storico perché Piano Cerofolini lo stesso De Carlo quando lavora sulla Darsena capisce che il Porto ha in sé quelle qualità urbane spazi aperti grandi edifici che consentono di ospitare delle funzioni urbane diciamo qualificanti che il centro storico per la sua natura non riesce a non riesce a ospitare quindi il Porto può agire come complemento per il centro storico aiutandolo come dire a formare un complesso urbano completo diciamo ricco di diverse attività vado avanti un'ultima immagine della fabbrica Schlumberger questi sono parte dei 78 disegni di cui parlava Emanuele una che molto cortesemente con grande disponibilità la biblioteca universitaria del dipartimento di architura e design ha messo a disposizione per la mostra e per il libro una planimetria generale vedete una cosa cui ha fatto cenno Emanuele cioè questo ponte mobile ponte sollevabile che doveva connettere in modo più diretto la zona antistante il il bigo e quindi il resto della città e quindi piazza caricamento con i magazzini del cotone adesso bisogna percorrere l'intero arco del bacino del mandraccio e invece si immaginava di realizzare questa passerella è interessante perché in qualche modo una ripresa della primissima idea che era invece quella addirittura di scendere direttamente con un asse che penetrasse nel porto da via San Lorenzo demolire il l'edificio che si trova a chiudere via San Lorenzo e proseguire nel porto questo non è stato poi possibile non è stato possibile eseguire ma rimane ancora in questa versione dell'87 il tentativo di collegare in modo più diretto questi due poli diciamo della in queste due parti del del progetto questa è una planimetria un po' più ravvicinata della zona di piazza Raibetta piazza Cavour e piazza Caricamento notate alcune cose interessanti che vanno tutte in una direzione quella che forse non si è realizzata fino in fondo di come dire usare questa area di contatto tra le due parti di città il porto e il centro storico davvero come un legame come un intreccio di connessioni per esempio si proponeva un utilizzo progettato diciamo di piazza Caricamento sapete che anche da qualche notizia più recente si continua a ragionare su questo spazio forse non con grande efficacia e al tempo piano per esempio suggeriva sono di quei suggerimenti molto diciamo ancora molto preliminari ma di realizzare delle strutture temporanee che poi potessero quindi dare una conformazione permanente alla piazza ma che poi potesse ospitare per esempio fiere, mercati e cose di questo genere per altro verso dalla parte opposta di Palazzo San Giorgio che è questo si immaginava di realizzare come poi è stato ma in conseguenza di questo progetto la stazione della metropolitana sotterranea ma anche di legare a questa stazione della metropolitana una specie di hub infrastrutturale di trasporti quindi dedicandogli delle architetture ad hoc si vedono ancora anche in sezione qua vedete la stazione della metropolitana e qui vedete l'edificio in fondo a via San Lorenzo che non viene demolito in questa versione ma viene ristrutturato per farne un capolinea degli autobus integrato con la metropolitana e con una o due tramvie che si immaginava di realizzare una verso la fiera del mare e soprattutto una che avrebbe risalito via San Lorenzo e raggiunto un po' simbolicamente la casa di Colombo in piazza Dante quindi una specie di hub infrastrutturale che nei fatti sì ci sono adesso le fermate di autos ma non è organizzato poi nel progetto definitivo da un punto di vista architettonico ancora si immaginava sempre in quella zona di usare i fondi lo vedete in questa sezione di Palazzo San Giorgio per attività culturali pubbliche prima per attività espositive dell'esposizione e poi per attività culturali permanente le palazzine del Porto Franco vado avanti un po' più rapidamente per trovare cose più interessanti ecco si vede ancora meglio in sezione si immaginava di coprire quel passaggio forse attualmente non così fortunato non così riuscito che sta tra le palazzine del Porto Franco e la palazzina del Millo di coprirlo con una copertura vetrata come in effetti era già nell'assetto del Porto Franco e quindi anche questo aiutava a connettere il frontemare con le parti di le parti che stavano alle spalle diciamo quindi anche con la città ecco qui vedete la passerella la famosa passerella che era sostenuta dal bigo stesso quindi il bigo non serviva soltanto per l'ascensore paranoramico non serviva soltanto per sostenere la tensostruttura della della piazza delle feste ma anche per sostenere questa passerella che non so se si vede forse non si vede in prospetto ma sarebbe stata sollevabile per lasciare passare le barche di maggiori dimensioni anche il bigo in questa versione anche il bigo anche la piazza la copertura di piazza delle feste si immaginava un po' con quell'ottimismo che a volte caratterizza i gli architetti che dovesse alzarsi abbassarsi a seconda delle attività che vi si svolgeva la sezione dei magazzini del cotone è interessante il fatto che questa è una sezione trasversale che riguarda diciamo la parte del centro congressi è interessante il fatto che di tutto alla lunga stecca del centro congressi una parte sia in struttura di ghisa colonne di ghisa e voltini di laterizi una parte invece successiva fosse stata realizzata in cemento armato quindi diciamo spuria dal punto di vista tecnologico e quindi disponibile soprattutto nella prospettiva della soprintendenza a una demolizione delle parti interne conservando i prospetti che ha consentito poi di realizzare centro congressi perché è stato svuotato completamente gli ultimi quattro settori del magazzino del cotone sono stati svuotati completamente e ha permesso questo edificio interessante quello della spina servizi questa lamella lunga lunga e stretta che funge da complemento tecnologico ai magazzini del cotone e poi la nave Italia questa è un'altra delle cose che sono cambiate nel corso dell'evolversi del progetto ora la nave Italia è una grande chiatta ferma lì nel progetto dell'87 era ormeggiata sarebbe dovuta essere ormeggiata davanti ai magazzini del cotone non davanti a Ponte Spinola e doveva essere una vera nave costruita ai cantieri di Monfalcone alla fincantieri avrebbe dovuto compiere in un anno un periplo completo della penisola italiana fino ad arrivare nel 92 a Genova aveva questi tre alberi una piazza coperta anche qui da una tensostruttura altra cosa interessante il mandraccio quella parte che poi è la parte più antica del bancino del porto antico presso diciamo antistante a Porta Siberia per caprirci doveva ospitare un grande teatro diciamo a configurazione variabile qui vedete in una sezione con le scene verso terra verso la diciamo la sede della capitaneria di Porto per capirci e invece in un'altra configurazione le scene dovevano il palco doveva essere in mare su delle chiatte quindi anche i cambi di scena avrebbero dovuto comportare lo spostamento di chiatte con un modo abbastanza divertente un po' qualcosa che torna a quella idea in fondo tipicamente genovese del porto anche nel suo pieno delle sue funzioni commerciali come però uno spettacolo pubblico pensate soltanto alle terrazze di marmo costruite nell'ottocento da Ignazio Gardella senior erano uno strumento per la popolazione genovese che rimaneva separata funzionalmente dall'attività del porto ma per guardare a quell'attività come un vero spettacolo uno spettacolo che cambiava tutti i giorni piano annulla diciamo le funzioni commerciali e diciamo industriali del porto del porto antico ma conserva quell'idea di un porto come un luogo dove le cose cambiano mutano continuamente si spostano si alzano si diciamo cambiano di momento in momento per lo meno di giorno in giorno vado avanti questo è l'edificio che doveva cogliere il famoso albergo di Ponte Spinola al posto dell'acquario poi Emanuele ha raccontato la storia dell'acquario non sto a ripeterla quando si decide di vedete che è un edificio che somiglia molto per esempio a quello della della Capitanere di Porto della Spina Servizi un telaio di acciaio molto industriale e dei tamponamenti o di vetro o di pannelli di mattoni è interessante perché poi l'edificio dell'acquario assumerà una forma leggermente diversa si continua a usare questo linguaggio industriale dell'acciaio però ci sono quelle forme carenate tutti dicono le metafora della nave in realtà poi gli architetti del studio piano in particolare Mark Carroll che ha lavorato attuale partner allora giovane architetto ha lavorato ai disegni dell'acquario dice in realtà è stato un compromesso tra la nostra idea di fare un edificio molto seriale e l'idea dello studio Cerma IF quello specializzato in acquari di fare in modo che le vasche le grandi vasche all'interno si sentissero diciamo fossero evidenti anche dalla forma esterna dell'edificio altre cose che si connettono a quello che diceva Emanuele poi sto andando a chiudere con le immagini di cantiere che sono quasi diciamo senza non hanno bisogno di commenti questi due disegni sono riferiti a due edifici che stavano in Ponte Calvi e Ponte Morosini quindi sono gli edifici dove adesso sono i ponti diciamo i mori dove adesso c'è l'NH Hotel e gli altri edifici progettati da Gambacciani nel momento in cui alla committenza privata la mano privata viene rifiutato diciamo per fortuna il progetto del cono di Portman però come imparziale compensazione a chi comunque aveva fatto una proposta certamente allettante dal punto di vista economico per il comune si concede questi due questi due spazi questi due emoli che vengono destinati appunto all'albergo che nel frattempo era stato tolto da Ponte Spino in questo gioco delle tre carte sempre in cui sposto le cose il centro congressi prima la fiera poi e vengono affidati a un altro progettista che è Piero Gambacciani che come vediamo usa come vediamo tutti i giorni rispetto a questa ipotesi soltanto disegnata da Piano usa un linguaggio completamente diverso non è più un'architettura industriale povera austera come dice Piano nella sua relazione un'architettura che cerca di parlare lo stesso linguaggio di quella del vecchio porto è un'architettura genericamente Ligure con le facciate intorno a Cate i tetti a padiglione coperti di Ardesia e dei grandi archi al piano terra e così via ecco le foto di cantiere le faccio passare rapidamente per chiudere il basamento questo è bellissimo sembra diciamo una roba surrealista è in realtà il plinto centrale la fondazione centrale del bigo da cui partono poi tutte le strutture i puntoni del bigo sembra che gli operai stiano pescando non so se è solo una suggestione grandi diciamo demolizioni sterri e poi la sequenza di montaggio del bigo ecco questo solo una parola sull'archivio queste foto sono quasi inedite diciamo vengono dall'archivio Publifoto quindi è una delle grandi agenzie insieme a leoni diciamo le due agenzie più importanti fotografiche a Genova del dopoguerra Publifoto caratterizzata dall'approccio molto molto autoriale di Giorgio Bergami che hanno documentato veramente tutta la storia di Genova ecco noi abbiamo trovato queste foto del della cantiere tra cui una sequenza di montaggio molto interessante del bigo ah questa è una vecchia foto del porto ah no no queste sono foto di scusate di cantiere vedete diciamo le costruzioni quello che mi premeva mostrarvi se si vede l'acquario in costruzione ecco questa è la sequenza di montaggio di uno dei puntoni queste foto sono scattate dalla palazzina del millo e praticamente il fotografo poteva toccare con la mano con la mano la punta del puntone del del bigo della quello che probabilmente quello che sostiene l'ascensore la la tensostruttura ancora adagiata a terra come una specie di opera di Cristo ecco e qui vedete quello che dicevo prima perché è interessante perché ci racconta di un cantiere straordinariamente compresso nei tempi perché la data di apertura dell'expo era quella non è che si poteva dire facciamo una settimana dopo e negli spazi cantiere con strutture molto grandi e spazi molto compressi quindi rende veramente complicata la gestione del cantiere tanto che alcune cose poi tra quelle cose che escono dal progetto ce ne sono alcune che escono per via della diciamo della urgenza ma anche della compressione degli spazi anzi della combinazione delle due nella ecco vedete veramente impressionante queste fotografie qua in questa foto vedete che le centine metalliche che sostengono la tensostruttura della piazza delle feste sono adagiate in questa zona in questa zona avrebbe dovuto essere realizzato secondo il progetto originario un grande parcheggio sotterraneo che non viene realizzato perché quella è l'unica area di cantiere che permette di collocare prima del montaggio strutture di queste dimensioni quindi fino all'ultimo non è disponibile per fare uno scavo per realizzare il parcheggio e quindi il parcheggio non viene fatto per compressione dei tempi e degli spazi del cantiere ultime foto direi a Expo quasi in apertura questa sicuramente nell'ultima fase si vedono già gli allestimenti dei singoli espositori i padiglioni e queste sono delle bellissime foto che ha scattato Emanuele che come si è detto oltre ad essere architetto critico di architettura editore di architettura il libro è edito della sua casa editrice che si chiama Plugin è anche un bravo fotografo lo era anche già ai tempi anzi già da 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 molto tempo era perché ha iniziato giovanissimo lo era ai tempi dell'apertura dell'Expo e la studente di architettura ha scattato queste foto che sono pubblicate nel libro e esposte anche in in mostra credo che sia finisca qui no il la presentazione con queste immagini bene direi che siamo anzi abbiamo sforato leggermente ma grazie Enrico grazie a tutti e buona serata bravissimi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti